Mister Michele Magliano, quest'oggi il Cuneo vince, vince con un punteggio largo 8 a 0 contro la S Torino. Mister, questa è una partita che classifica la mano, bisognava vincere, bisognava vincere possibilmente anche bene, è arrivata una vittoria netta, una partita dominata, quindi direi un pomeriggio perfetto per voi e soprattutto una partita affrontata nella maniera migliore e con l'approccio giusto. Soprattutto quest'ultimo aspetto è quello che mi fa più piacere, affrontato nella maniera ideale dal punto di vista mentale. Io credo che il rispetto sia prima di tutto nei confronti degli avversari e poi nei confronti di se stessi sia dare il massimo indipendentemente dalle circostanze. All'inizio è stata una partita che doveva prendere una determinata piega, però come dicevo ai ragazzi in settimana non ci sono partite facili, scontate, ci sono partite che siamo noi a renderle facili e scontate. I ragazzi sono scesi in campo colpiglio giusto, con la testa giusta, fin dal primo minuto si è cercato di indirizzare la partita nella direzione giusta e nel momento che siamo riusciti abbiamo fatto quello che dovevamo. Quindi complimenti ai ragazzi. È stata una buona occasione anche per vedere le seconde linee in campo, i giovani giocatori che arrivavano da infortuni e quindi avevano bisogno di minutaggio, quindi indicazioni utili anche sotto questo punto di vista. Una volta che siamo riusciti a portare la partita da nostra parte era anche opportuno dare dei minuti a qualcuno che si è rimesso a posto, vedi Costa, vedi Simone, vedi Angeli che è partito dal primo minuto dopo un mese di stop, ci sono dei giovani che stanno crescendo bene con le loro squadre. Partite come queste soprattutto per la disponibilità e per la capacità del gruppo di farle vivere nella maniera opportuna, servono anche per i giovani ad integrarsi poco per volta e a prendere qualche gratifica perché comunque penso che giocare al Paschiero sia gratificante e a iniziare a tastare, ad assaporare cos'è il calcio non più giovanile. Detto questo abbiamo fatto esclusivamente quello che dovevamo, non era scontato ma dovevamo farlo e i ragazzi si sono presentati nella maniera opportuna e complimenti. Eh sì, anche perché le insidie di questa partita sono dimostrate dal fatto che l'Alba contro la penultima è andata a pareggiare, adesso siete a meno uno, quindi doppiamente importante non aver preso la partita dal verso giusto e non avere poi i rimpianti sotto questo punto di vista, aver perso magari dei punti per strada che non erano da perdere. Ne abbiamo già perso qualcuno di troppo. Queste partite sono quelle che ti permettono di giocare le altre partite giocandoti qualcosa di importante. È un campionato estremamente complicato per l'equilibrio, è un campionato estremamente combattuto e quindi bisogna cercare di tirare fuori il massimo da tutte le circostanze. Questa era una di quelle partite da non dover sbagliare e ripeto, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano, complimenti perché non era così scontato, ma hanno fatto bene, quindi mi fa piacere.